Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con E' Venerdì. Andrea Giannasi, storico, scrittore, editore, lo conosciamo già, che ha scritto e ha fatto scrivere molto di questo periodo della resistenza e che ci presenta tra l'altro il suo nuovo libro che esce proprio domani sulla spedizione brasiliana in Italia per supportare gli alleati. Buonasera. Giannasi, intanto facciamo vedere il libro che esce proprio domani, tra l'altro, la FEB in Italia, la spedizione brasiliana a sostegno degli alleati in Italia. Perché questo libro sinteticamente? Perché 80 anni fa il Brasile dichiarò guerra all'Italia, nel 1942, nell'agosto del 1942, il Brasile dichiarò guerra all'Italia e alla Germania su spinta e pressione di Washington negli Stati Uniti d'America ed entrò in guerra contro l'Italia e poi due anni dopo inviò sul fronte della linea gotica un contingente di 25 mila soldati di prasignasse, cioè di brasiliani, che combatterono poi nel nostro settore, tra la Versilia, la Valle del Cerchio e poi nella Valle del Reno a Purrita Terme. Allora, proviamo a raccontare in otto fotografie che ci sono state fornite da te direttamente il libro che ci racconta appunto la spedizione brasiliana in Italia. Partiamo con la prima fotografia. Allora, questo è al centro, si vede il presidente Getulio Vargas, è un presidente che venne eletto, sostenuto dai militari, questo è proprio lo stereotipo classico del presidente sudamericano che fuma il sigaro, è stato un presidente che ha lanciato uno slogan, è stato nuovo e con l'idea di creare uno stato nuovo una delle prime cose che ha fatto è stato cancellare la democrazia, quindi tutte le voci alternative, le voci che erano contrarie al suo regime le ha cancellate e di fatto ha conquistato poi il potere e questo potere era però un potere molto vicino a, come dicevo prima, ai regimi di Roma e di Berlino, tant'è vero che i rapporti commerciali soprattutto con Berlino non sono molto importanti e è deciso appunto di armare l'esercito brasiliano acquistando armi sia dalla Germania che dall'Italia. Seconda fotografia. Ecco, questo è il riferimento a prima, negli anni venti l'esercito brasiliano era un esercito molto arritrato, non preparato, fu invitato a una delegazione francese del generale Gamelin che arrivò in Brasile e addestrò e preparò diciamo una bozza di scuola di guerra a Saint-Cyr e questo era il fante brasiliano prima dell'intervento nella seconda guerra mondiale, come vedete sia dal punto di vista di attrezzatura che dal punto di vista di armamento è un soggetto molto, possiamo dire obsoleto come preparazione d'altro e quindi poi vedremo successivamente, quando arrivarono in Italia, vedremo quanto pesò quella non preparazione sull'esperienza di guerra appunto sulla linea gotica. Andiamo ancora con le fotografie. Questo qua è il contingente, il primo scaglione che arriva nel luglio del 44, sbarca dalla nave americana General Max e venne sbarcato a Napoli, qui si vedete, vedete Napoli sul viale a mare e loro cosa fanno? Fanno una sfilata meravigliosa a Napoli, pensando di essere anche tenuti in grandi considerazioni, in realtà loro avevano delle uniformi molto simili a quelle tedesche dell'Africa Corps e quindi di fatto quando sfilano senza armi, perché l'armamento erano vecchi fucili tedeschi, Mauser, quindi erano inutilizzabili sul fronte italiano, sfilano senza armi e quindi i napoletani pensano che siano prigionieri di guerra e quindi le trattano come quelli. Poi si spostarono in un campo a nord di Napoli e gli americani si erano dimenticati addirittura di dargli le tende, quindi i primi giorni, nel luglio del 44, dormirono in questo campo e fortuna volle che accanto c'erano delle coltivazioni, c'erano dei meleti e quindi mangiarono, il primo giorno mangiarono mele sostanzialmente e dormirono all'aperto. Veramente una partenza particolare, proseguiamo con la documentazione fotografica, ecco qua. Ecco, questa è la prima trasformazione, nel senso che loro prima a Tarquinia e poi a Vada ricevono l'armamento americano, vengono preparati, vengono addestrati, è naturale che ci sono delle difficoltà enormi perché il 99% dei soldati brasiliani parlava soltanto portoghese, una piccolissima parte parlava inglese e quindi ci fu questa montagna da scalare ancora più difficile della differenza proprio di idioma tra i soldati brasiliani e quelli americani. Questa fu una difficoltà enorme, tant'è vero che i primi rapporti che ebbero buoni furono proprio con i partigiani, sia nella zona di Camaiore che di Massarosa e anche qui c'è un aneddoto particolare, arriva l'artiglieria brasiliana sopra Camaiore, posizionano i cannoni e i partigiani gli dicono fermi che perché se sparate colpite Lucca, avevano messo i cannoni praticamente diretti verso sud piuttosto che verso nord. Questo è il segno di un'impreparazione che poi loro pagarono purtroppo sul campo di battaglia. Tra l'altro Massarosa infatti è stata liberata dalle truppe brasiliane e spesso anche come Ampi facciamo delle iniziative insieme al console. Certo, perché sono rivasti dei regami forti sul territorio. Andiamo ancora avanti con le fotografie. Questa è veramente particolare. È veramente particolare perché praticamente i brasiliani arrivano dal Brasile, non hanno mai visto la neve, si trovano in mezzo alla neve e non solo devono combatterne la neve, ma devono affrontare un problema enorme che hanno che è quello del congelamento. Ecco loro nel mese di dicembre, nel mese di gennaio, avevano decine e decine di congelati il piede trincheira, cioè il piede da trincea, proprio perché avevano una totale impreparazione a vivere in mezzo alla neve, a differenza dei tedeschi che in realtà erano molto meglio preparati, molto meglio addestrati, ma soprattutto molto meglio equipaggiati dal punto di vista della difesa nelle difficoltà climatiche sugli appennini. Anche lì impararono e molti impararono anche a sciare, perché gli americani li insegnarono a sciare proprio per cercare di muoversi più velocemente come pattuglie sul terreno degli appennini. Andiamo ancora avanti, la regia ci manda un altro documento, eccolo qua. Ecco, questa qui è un'altra foto emblematica perché è l'armamento, vedete quello dietro di spalle è un Fante con un fucile americano, quello davanti ha una mitragliatrice, dopo la terribile battaglia di Monte Castello combattuta sopra Porretta Terme, durante la quale morirono decine di brasiliani perché uscirono allo sbaraglio senza una grossa preparazione militare, lentamente iniziano ad imparare a conoscere la difesa dei tedeschi, a conoscere come si posizionano le mitragliatrici, i mortai, quindi imparano la guerra sul fronte. In questo va ricordato ancora una volta l'aiuto e il sostegno dato dai partigiani, perché quando loro arrivano per esempio nella valle del Serchio e arrivano i primi giorni di ottobre, loro si fermano a Val d'Ottavo e a Borgo a Mozzano. Non vanno avanti, e ci sono molti documenti, tra l'altro riportati anche in questo libro, con il partigiani dell'undicesimo zona di Pippo che scrivono ai brasiliani e invitano i brasiliani ad avanzare, perché nel frattempo i tedeschi si sono già attestati sulla zona, sulle creste di Montelama e poi sul saliente di Palleroso, quindi scrivono questi pizzini invitandoli a spostarsi, perché comunque in ogni caso la valle è libera, e invece sono molto guardindi e attendono. Lì nasce poi il famoso detto andare a vedere, cioè i brasiliani dicono ai partigiani andate a vedere, quindi sono i partigiani i primi ad entrare a Gallicano, a Barga, a Fornaci, a Sommocolonia, sono i partigiani di Pippo che liberano le zone e poi aspettano i brasiliani. Pippo, Manrico, Ducceschi, ne parleremo più avanti in trasmissione. Adesso andiamo con quella che penso sia l'ultima fotografia, no, non è ancora l'ultima, questa se non sbaglio è la penultima. Questa qui è una fotografia ancora singolare, che significa uno studio di volo, perché gli americani addestrarono anche un corpo di piloti della Forza Aera Brasileira con il simbolo Senta Pua, e qui stanno studiando una mappa per un attacco e i brasiliani volavano con il P-47 Thunderbolt, quindi aerei americani, che poi si riportarono anche in Brasile, formandolo il primo noccio dell'aviazione militare brasiliana, e qui stanno studiando la mappa per quello che erano i loro compiti, ovvero quello del mitragliamento nelle retrovie. Loro sono responsabili del mitragliamento di tutti i treni della pianura padana, di distruzione delle stazioni ferroviarie, dei ponti. Loro avevano il compito di distruggere quelle che erano le infrastrutture nelle retrovie del fronte. E adesso andiamo con quella che dovrebbe essere veramente l'ultima fotografia. Pensate a come era partita la spedizione, adesso i tedeschi che si arrendono ai brasiliani. Certo, perché nella grande corsa della rottura della linea gotica gli americani corrono verso il nord per cercare di evitare la famosa ridotta della Valtellina o una possibile nuova difesa tedesca sulle Alpi. Quindi corrono tutti in avanti e rimane indietro la FEB. La FEB rimane indietro e con alcuni altri contingenti, ma soprattutto con l'aiuto dei partigiani, si ferma a Parma e Fornovo, soprattutto a Fornovo, e lì a Fornovo intercettano e catturano tutti i resti della 148s. divisione tedesca e anche le divisioni che erano in Garfagnana della Repubblica Sociale Italiana. E fanno oltre 20.000 prigionieri ed è un vanto per i brasiliani perché erano arrivati impreparati, ovviamente con enorme difficoltà sia da buddista della dottrina militare, quindi dell'impiego, della tecnica e della tattica e alla fine si trovano a vincere sul campo portando 20.000 prigionieri.